io dico che secondo me chi non ascolta radio libere di aliana capisce niente sinceramente mercoledì 30 agosto l'orchestra italiana bugatti ha concluso masiano in festa 2017 un appuntamento pistoiese molto conosciuto oltre 100 volontari si sono impegnati per la riuscita della manifestazione il ristorante aperto tutte le sere parco giochi per i bambini un'occasione veramente ghiotta per famiglie amanti del ballo curiosi che non hanno avuto modo di annoiarsi sera dopo sera le migliori orchestre nazionali si sono alternate coinvolgendo il pubblico che numeroso ha partecipato ballando e divertendosi il colpo d'occhio era ogni volta da grande evento merito anche degli organizzatori che hanno curato il tutto nei minimi particolari grazie masiano a nome di tutti gli ospiti delle 12 serate